ciao a tutti e bentornati sul canale di le perle di vale oggi andremo a fare questo braccialettino con i fiori visto che siamo in primavera e viene l'estate e questo è molto adatto questo è tutto materiale che mi ha mandato pandal selected andate a vedere sul loro sito ed è un'azienda che ha tantissime cose bellissime per qualsiasi hobby voi fate io in questo caso ho fatto questo braccialetto ma se vi ricordate in altri sì in altri video ho fatto anche la borsa quindi potete sbizzarrirvi come volete in questo caso come ho detto io ho fatto questo braccialetto che sono i fiori sono in resina e le perle sono in vetro non in plastica ma in vetro ed è una bellissima combinazione come vedete questi fiori sono bellissimi solo di tanti colori che poi è il codice questo vi arriva in questa confezione niente detto questo è un video facilissimo da fare e alla portata di tutti e ora vi lascio al tutorial ok allora per fare questo progetto abbiamo bisogno di perline di vetro queste acquistate sul sandal e questo è il codice come vedete ce ne sono tantissime e sono una bella confezione poi io ho scelto anche questi fiori in resina e questo è il codice come vedete sono tanti sono molto belli poi abbiamo bisogno di moschettone io ho anche due coprinodo con il gancino per poi agganciare il moschettone e l'anellino avremmo bisogno di filo di nylon anche questo poi lo trovate su questo è mio ma lo trovate su pandal come trovate anche questi coprinodi e questi moschettone questi sono i miei però ci sono nel sito io uso uno 0 25 come filo di nylon però potete usare anche questo filo che è sempre nylon ma molto più leggero io uso questo e farò questo poi abbiamo bisogno di un ago in fila perle io uso questo quelli apribili vedete e niente prenderò circa sì facciamo circa un metro di silo meglio sempre un po di più che un po di meno dopo poi avremo bisogno anche di pinze per assemblare il tutto ora io infilo lago così il bello di questi aghi che si infilano benissimo forse io ne ho preso anche un po di più di un metro vabbè allora facciamo un modo in fondo io faccio un modo per non fare uscire le perline ora iniziamo per prima cosa a mettere il nostro il nostro coprinodo premetto io per fare sì che rimane più fermo mi metterò una perlina qualsiasi tanto qui viene chiusa si può mettere anche una perlina di conteria ora ne prendo una in questo caso io ne prendo color oro ma non ha importanza perché oddio forse ne ho prese troppe vabbè non conta perché tanto dopo viene viene chiusa io lo faccio perché quando viene coperto rimane più fermo quindi come facciamo il primo dobbiamo metterlo in questo modo scusate prendiamo prima la perlina poi questo lo mettiamo da questa parte qua vi ricordo che i due gancetti devono rimanere fuori quindi il primo lo inseriamo così con a testa in giù con la perlina e scusate qua ho fatto un nudo solo ma mi sa che ce ne vuole due in fondo quindi ne facciamo un altro sempre vicino anzi ne ne facciamo tre così siamo più sicuri ok ora portiamo giù il tutto vedete la perlina vedete che serve per bloccare bene il filo poi chiudiamo in questo modo vedete ora prendo le pinzette e chiudiamo bene il nostro coprinodo in questo modo vedete vedete ok ora andiamo a infilare dopo il filo poi lo taglieremo in ultimo andiamo a infilare le nostre perline allora io le farò bianche il la base e poi metteremo tanti colori lo faccio colorato e faremo la base bianca con il centrale bianco ok allora prendiamo due bianche due e infiliamo e portiamo giù così anzi facciamo tre bianche poi prendiamo un fiore e dal buco vedete usciamo in mezzo vedete in mezzo portiamo giù prendo una bianca che questa sarà il mio centrale poi esco dall'altra parte vedete in cielo faccio vedere in filo dentro la perlina dove c'è l'altro buco in questo modo vedete e porto giù ed ecco il primo fiore fatto è semplicissimo prendo altre tre bianche porto giù poi mettiamo questo qui che piace molto vi faccio vedere vedete qui c'è il buccanino qui vedete io infilo nel buco e porto ed esco in mezzo con l'ago vedete così metto vi faccio vedere una perla qui porto giù perché mi riesce meglio e vado a infilare l'ago vedete qui e sotto io vengo sopra in questo modo vedete e porto su vedete e abbiamo già fatto due fiorellini ultima volta vi faccio vedere tre bianche tre bianche poi vogliamo fare di un altro colore mettiamo arancione blu che mi piace molto questi tre colori quindi esco dal buco è qui vedete qui io entro nel buco così vedete ed esco da alla metà poi metto una perlina bianca così che questo sarà il centrale porto giù ora devo fissare questa perlina quindi devo passare nell'altro buco che è qui vedete sempre da in mezzo al nostro fiore il filo nel buco vedete esco dal di qui e vado giù e abbiamo messo anche questo fiore vedete com'è carino bene io continuo fino alla fine poi ci vediamo per mettere l'altra parte della nostra del nostro coprinodo e l'assemblaggio bene sono arrivata alla fine vedete ora dobbiamo mettere l'altro quindi se prima quell'altro l'abbiamo abbiamo messo prima la perlina e poi inserita in questo modo qua in questo modo qua questo dobbiamo metterlo da questa parte qua quindi vedete sopra infiliamo nel buco mettiamo che portiamo giù mettiamo una perlina per bloccare una perlina per bloccare ok vedete vedete poi facciamo un nodino ricordatevi che deve andare vicino il nodino è io faccio in questo modo così poi dobbiamo portarlo vicino vicino quindi come faccio io mi prendo un ago e vediamo qua un ago uno spillo per chiudere il nodo vicino facciamo il nodino togliamo l'ago per così lo vediamo meglio facciamo il nodino così a questo punto io metto nel filo qua vedete l'ago in mezzo e porto giù il filo con l'ago sempre vicino una volta portato vicino e questo serve per stringere mi raccomando ok una volta stretto chiudiamo con la perlina dentro mi raccomando in questo modo stringiamo e per sicurezza facciamo un nodo anche fuori quindi facciamo in questo modo lato dentro e facciamo il nodino fuori in questo modo così blocchiamo bene il tutto ne faccio un altro vedete per fare il nodo io faccio e passo sopra a qui è in questa da questa parte poi infilo e faccio il nodo così ok benissimo vedete ora mi sembra bene teso vedete tagliamo il filo vicino tagliamo anche questo filo di qua e ora andiamo ad assemblare in questa maniera qua vedete metto al suo picaglio chiudiamo in questo modo vedete mentre da quest'altra parte gli mettiamo l'anellina ok poi volendo possiamo metterci anche un'estensione se il bracciale chi lo compra è stretto vedete vedete molto bellino molto carino semplicissimo da fare e visto che viene ora l'estate va benissimo quest'altro video voglio fare anche gli orecchini scusate gli orecchini abbinabili quindi avremo una parour orecchino e bracciale ma volendo si può fare anche una bellissima un bellissimo paricollo che io farò per abbinare il tutto insieme bene io spero che questo video vi sia stato di aiuto come avete visto è semplicissimo non c'è tanto da fare e si fa prestissimo sono bellissimi questi fiori e queste perle sono in vetro mi raccomando non in plastica in vetro quindi già è una buona cosa perché io in plastica non mi piace tanto quindi prendo pochissimo andate a vedere il sito di Pandal che è molto fornito di tante cose trovate i moschettoni trovate il filo di nylon trovate gli anellini trovate tutto quello che c'è che ho messo anche se molte cose sono le mie diciamo come il filo come il moschettone l'anellino e il coprinodo ma vi garantisco che hanno anche questi vi faccio vedere bene come sono se è così magari li cercate vedete in questo modo bene questo è tutto io spero di essere stata chiara e vi aspetto al nuovo video ah iscrivetevi al mio canale se non l'avete ancora fatto e ciao grazie 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 grazie